Fino a dieci anni fa ero uno sciatore professionista, sci di fondo, fatica e sudore. Ho gareggiato per più di vent'anni, dal 1988 al 2008. Ho vinto tutto quello che c'era da vincere e tutto quello che uno sportivo possa sognare di raggiungere. Medaglie olimpiche, un oro, un argento, titoli mondiali, più di 30 titoli nazionali. Ero sannato da migliaia di tifosi di ogni nazionalità. Avevo fama, denaro, notorietà per vent'anni. E poi sono tornato qui dove tutto è iniziato. Sono nato 52 anni fa a Bosco Chiesa Nuova, un paesino a pochi e decine di chilometri da qui, sui Monti Lessini. Qui la gente alleva bestiame, taglia la legna e gestisce qualche locale. Se è in estate e se è in inverno, visto che i turisti non mancano. Sì, perché questo posto è un gioiellino incastonato tra boschi, prati e alpeggi di mucche. A voler essere preciso, io sono nato in una contrada fuori paese. Da piccolo casa mia fissava il centro del paese. Abitavo in mezzo a prati e valli che finivano direttamente dentro i boschi. Fine anni sessanta, i tempi in cui ancora i bambini giocavano con i legni e tanta fantasia. Dalle signo in alto piano, sembra un grande panettone, con dei lunghi vai pieni di faggio e abeti che scendono verso la pianura. Ed è in mezzo a quei tronchi che ora io mi perdo. Lo so che vi state chiedendo perché sono tornato nei boschi dove sono cresciuto, dove seguivo mio padre, che faceva il guardia boschi e non sono rimasto là. Là nel mondo dove lo sci ti dà cosa? Tutto. Tutto sembra figo, tutto sembra wow. Perché mi sono innamorato. Sì, mi sono innamorato perdutamente di una creatura, di una creatura selvatica che una mattina di un inverno di dieci anni fa, mentre scendevo una fitta foresta di abeti rossi e faggi, ha incrociato il mio sguardo, l'ha catturato e l'ha trascinato giù, negli inferi. E lì, come dice il video, in mezzo alla mia puzza di marcio ho finalmente capito chi voglio essere. Non capita tutti i giorni che un lupo ti apra gli occhi e ti faccia cambiare completamente vita. Così ho deciso di imparare ad ululare. Sono andato in Slovenia, a Lubiana, per apprendere al meglio come farlo. Non deve essere né troppo lungo, né troppo intenso, né troppo forte. E i miei lupi, Slavici e Giulietta, mi rispondono. Sì, mi rispondono. Slavici è un lupo sloveno, grosso, possente, che ha percorso più di duemila chilometri prima di fermarsi in Lessinia, dove ha incontrato Giulietta. Lupo appenninica, una femmina in dispersione dal centro Italia. La mia coppia alfa ha scelto la Lessinia come loro nuova casa, proprio in concomitanza di quando ho appeso l'iscia al chiodo. Beh, nulla succede per caso. Quando pensavo che tutto fosse finito, che la mia vita non avesse più senso, che senza l'iscia ai piedi non potesse più sentire l'adrenalina, ho nullulato e mi sono riaggrappato alla vita. la mia seconda vita. La prima volta che mi hanno risposto ero in mezzo al bosco, da solo. Sono spesso nel bosco. Quando vado indosso sempre gli stessi abiti, non li lavo mai. Me li tolgo, li metto in una cassettina di legno, presente quella dove si mettono il vino, si mette il vino, quella, e la sotterro. Faccio lo stesso con tutta l'attrezzatura che uso per monitorarli, fototrappole, binocoli, bussole, torce. Metto tutto dentro la cassetta perché devono odorare sempre e solo di selvatico. Dicevo che la prima volta che mi hanno risentito ero solo. Era un fine settimana di dieci anni fa ed ero andato a dormire nella foresta. Ho montato la tenda, ho steso il sacco a pelo e ho acceso il fuoco. Mi sono allontanato nel buio, ho divaricato le gambe, mi sono portato le mani alla bocca, ho ispirato a fondo e... Dopo una ventina di secondi da quel mio primo lulato ne ho fatto un altro e poi è accaduta la magia. Dal vaio di fronte a me ho sentito tornare come un gemito e più passavano i secondi più diventava sempre più opprimente. Un ululato vero colpiva le spalle dietro me. I miei lupi mi stavano rispondendo. Così ho deciso di ululare una terza volta e la risposta è stata subito corale. Oggi la mia vita è questa. A me piace dire che sono un guardiaboschi della Lessinia e sia durante il lavoro sia durante tutto il mio tempo libero. I lupi sono la mia nuova famiglia. Li seguo, li spio, li ascolto e ci parlo. Il lupo è un animale comodo, scomodo, molto scomodo, però tanto elusivo, opportunista. Lui se ne frega del clamore che provoca quando arriva in un posto e credetemi ne fa tantissimo. Lui se ne frega delle reazioni della gente, fa semplicemente il lupo come ha sempre fatto da millenni. È per questo che viene maledetto. ecco perché voglio essere un lupo. Perché oggi io, il campione olimpico, quello che ha vinto tutto, quello che è salito lassù sul tetto del mondo, voglio essere maledetto per essere solamente me stesso. Sapete per anni ho fatto usci da fondo. Chi di voi lo pratica sa che pochi altri sport ti consentono di stare così a contatto con la natura. Non servono impianti di risalita, non servono particolari infrastrutture. Basta infilare liscia i piedi e spingere in mezzo alla natura. Ecco, la natura. Oggi mi accorgo quanto magari inconsapevolmente sia sempre stato circondato dalla natura. Quando gareggiavo non me ne rendevo bene conto, ma ora appena posso esco e mi perdo nei boschi e sorrido. Forse sono un lupo da sempre perché non sto bene da nessun'altra parte se non sono in un bosco con rumore dei miei passi, il profumo del muschio e dove non vedo l'ora di ascoltare un orulato. E quando accade mi accuccio lì, in ginocchio, respiro a fondo, chiudo gli occhi, e mi sento uno di loro. Grazie.